Come impieghereste il modulo di FlowFD di Solid Edge e quale valore aggiunto vi apporterebbe? Il modulo potrebbe essere impiegato in modo sicuramente efficace in una fase di progettazione preliminare, quindi in una fase di progettazione del prodotto, in modo che si riesca a valutare quale sia la più simile potenzialità del prodotto in funzione delle modifiche, in fase di progettazione, sicuramente per un altro punto di vista sia termofluido, sicuramente per un altro dinamico a valutare dei parametri che altrimenti non sarebbe possibile valutare in una fase puramente teorica, con una progettazione diciamo standard.